Belsito Hotel Le Due Turri, a mano calzati, a circa 200 metri dall'uscita a Vellino Est della Napoli Bari, www.belsitoteldueturri.it Grande partecipazione alle attività messe in campo dalla sede di Solufra del Liceo Statale di Capraris per illustrare nei dettagli l'offerta formativa dell'istituto presso il quale dal prossimo anno scolastico sarà attivo oltre al liceo scientifico anche l'indirizzo liceo scientifico opzione scienze applicate. Tante le iniziative organizzate dall'Open Day per allunni e famiglia, momenti di informazione, accoglienza e didattica avviati nel mese di dicembre scorso con il progetto Orientamenti e rivolta agli alunni delle scuole secondarie di primo grado. Nell'ambito di tali attività, mercoledì e ieri, gli allievi delle scuole medie di Solufra sono stati ospitati presso la sede del liceo per assistere a brevi lezioni e a visite guidate tra i locali dell'istituto. Un ruolo importante nell'ambito delle tante iniziative messe in campo è stato ricoperto dagli stessi allunni del liceo statale De Capraris nell'allestimento e cura dei laboratori dimostrativi e interattivi con l'obiettivo di coinvolgere in maniera diretta gli studenti e consentire un orientamento mirato ed una scelta consapevole. Grazie. 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 Grazie.